Sì, sbagliati si gioca, sono cose che succedono, abbiamo recuperato una partita che poteva finire malissimo e il 3-break abbiamo giocato molto bene, ovviamente stanno giocando contro la Lube, quindi sono cose che succedono, potevamo chiuderlo in un paio di occasioni, non siamo riusciti, peccato, peccato dai. È parecchio perché a quel punto lì ci si crede sempre ovviamente, quindi dispiace perché avevano la partita in mano e non siamo riusciti a chiuderla, a quel punto la partita giocano tutti e due al massimo, quindi di uno nell'altro, sono stati bravi loro, come ho detto noi potevamo chiuderla in diverse occasioni, loro si sono giocati bene le loro carte, niente, è andata così, ne abbiamo fatti stare un po' sulle spine almeno. Grazie a tutti.